Lunedì 8 maggio 2017, è il 129esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del toro. La chiesa ricorda San Bonifacio. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Bonifacio. Accadde oggi. L'8 maggio del 1886, il farmacista John Stitt Pemberton inventa una bevanda gasata che verrà chiamata Coca-Cola. L'invenzione sarà ufficializzata il 13 ottobre dello stesso anno. Chi è nato oggi? Oggi facciamo gli auguri al cantante spagnolo Enrique Iglesias, nato a Madrid l'8 maggio 1975. La citazione del giorno. Oggi la gente conosce il prezzo di tutto e il valore di nulla. Oscar Wilde. Dice il saggio. Anche un verme di due centimetri ha un centimetro di anima. Proverbio zen. La parola preziosa. La parola di oggi è edonismo. È un termine di origine filosofica che indica per estensione un qualsiasi stile di vita che ha come fine ultimo il raggiungimento del piacere, ad esempio l'edonismo degli anni Ottanta. Grazie. 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 Grazie.